Covid-19 in Sicilia, 14.815 tamponi processati, 5.267 guariti e 7 decessi. A Siracusa 169 contagi. Sono 2.446 nuove case di Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.815 tamponi processati. Ieri erano 2.189, il tasso di positività è al 16,5% in aumento rispetto al 16,2% di ieri. La Regione è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.718 con un decremento di 2.828 casi. I guariti sono 5.267, 7 le vittime che portano il totale dei decessi a 11.864. Nell'ambito ospedaliero i recuperati sono 802, 20 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 38, 6 in più rispetto a ieri. I dati del contagio registrati a livello provinciale. Palermo 615, Catania 464, Messina 415, Trapani 270, Agrigento 229, Siracusa 169, Ragusa 142, Caltanissetta 98, Enna 44.